In atto la compatibilità finanziaria della regione non sono serene, abbiamo visto l'esercizio provvisorio che prevede un accordo con lo Stato di 1 miliardo e 700 milioni per chiudere il bilancio, quindi un esercizio provvisorio che vede programmare un confronto con lo Stato. Siamo a 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio provvisorio, non c'è un tavolo aperto, quindi questo ci preoccupa parecchio perché ciò significa mettere in campo seriamente un confronto coerente e corretto con lo Stato, come hanno fatto le altre regioni sottospeciali che hanno chiuso tutti gli accordi per l'attuazione delle norme statutarie. Da noi ancora gli articoli 36, 37 e 38 non sono ancora stati applicati compiutamente, quindi la commissione paritetica deve fare un lavoro molto veloce, in essenza del quale è inevitabile che ci sia un accordo ponte per risolvere le questioni finanziarie della stessa regione, ma soprattutto per garantire il funzionamento anche dei servizi alla collettività.